ci siamo diretta facebook con annalisa ciao annalisa ciao a tutti sì sì tutto bene un po di vento oggi ma noi siamo qua al riparo vicine vicine ci teniamo ci teniamo strette ci teniamo caldo insomma va bene marlen pizzo rds c'è con noi annalisa annalisa tu l'ultima volta l'ultima volta l'unica volta che ci siamo incontrate io e te tu sei passata di qua per il lo showcase con benj e fede alessio bernabè i due lipa sei passata per un saluto veloce in onda e finita che hai cantato in metallica ti ricordi sì che meraviglia guarda ma infatti è bello ricordare queste cose anche perché dico vabbè allora sono veramente scema visto che la domanda te l'avevo fatta io siamo in due e va bene così nel senso che proprio c'è senza senza filtri proprio così tranquilla ti racconto la verità ecco questa è la mia ma infatti oggi abbiamo preparato un live a sorpresa nel senso che non lo sa neanche lei canterà adesso analisa un pezzo degli acdc vero addirittura vedi lei non si ritira non si tira indietro davanti a niente se vuoi farlo io sono contentissimo vabbè dai poi magari facciamo ci prepariamo e andiamo un attimino là dietro nell'angolo e poi torniamo e facciamo uno spettacolino io e te insieme vabbè io sono contentissima tutto questo per dimostrare che analisa uno spirito rock sbaglio no 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 assolutamente lo spirito rock è dentro di me forte e diciamo stato sicuramente un po forse il primo approccio che ho avuto nei confronti della musica ho iniziato a ascoltare musica da bambina e poi ho capito un po cosa mi piaceva la prima cosa che ho scoperto piacermi davvero tanto sicuramente era è stata la musica rock e le varie band storiche sicuramente il rock tour nella nella tua vita nelle tue collaborazioni ce n'è una adesso freschissima con gianna nannini e boh capiamo non è detto boh perché me lo chiedi ma io ho letto magari sbaglio è qualcosa un pezzo scritto insieme qualcosa nel suo album ma adesso sai vediamo un attimo io finché non vedo non non credo quindi vedremo ma vi siete incontrate spoiler non si può dire non si può dire niente va bene va bene cambiamo numeri parliamo di numeri analisa cosa succede nella tua testa quando ti svegli un mattino a 11 giorni dall'uscita del tuo singolo e ti dicono su spotify è che numero sei uno no no ma infatti è stata una figata guarda sono state due settimane da quando è uscito il singolo veramente fighissime di grande gioia è un sacco di belle cose è uscito è andato bene su itunes è andato bene su spotify mo c'è il video ha fatto oggi un milione di views sono davvero cioè sono contentissima è solo l'inizio e adesso la parte difficile cercare di andare avanti così senti i ragazzi che sono nel tuo video li hai creati in laboratorio o esistono? che bella domanda che mi hai fatto questa davvero ma me lo sono chiesto anch'io guarda infatti no ne approfitto per per ringraziarli per ringraziare tutti i ragazzi che sono stati con me sul set dall'alba al tramonto e anche notte fonda e davvero si sono fatti un mazzo così e quindi li ringrazio e hanno contribuito a rendere bello questo video e io sono felice saluto anche il regista Mauro Russo ciao grazie e buon grazie a tutti questo è il momento di ringraziare tutti no davvero perché ci sono un sacco di cose belle che sì insomma io ho fatto eccetera però senza gli altri che hanno fatto con me non sarebbero potute essere così belle davvero quindi la squadra è importantissima e ringrazio tutti beh effettivamente da festeggiare ne hai un bel po' perché stai facendo dei successi pazzeschi no? ma quanto c'è di cinema vero nei tuoi video citazioni al grande le boschi tu ti fai veramente i film in tutti i sensi nel senso che tagli le pellicole allora mi faccio i film nel senso che taglio le pellicole e poi mi faccio i film anche perché mi faccio le paranoie nel senso vabbè comunque sì nel nel video ci sono riferimenti cinematografici c'è proprio anche un taglio cinematografico il video il tipo di riprese la colorazione le camere che sono state usate è un po' quella roba lì e la storia in questo caso è legata al contenuto della canzone perché io dico c'è questo giorno che arriva e ti cambia la vita per dire che davvero può succedere qualunque cosa è bello riuscire a girare questa cosa che capita e non si sa che cosa sia magari una persona un evento una cosa piccolissima a tuo vantaggio farla diventare qualcosa di bello quindi ci sono io che taglio le pellicole le incollo e creo il mio proprio film passando anche di palo in frasca un po' il senso è questo qui ma quel giorno che ti ha cambiato la vita è già arrivato ce ne saranno sicuramente tanti altri che continueranno a cambiartela ma uno proprio in particolare ma guarda non lo so sicuramente quello che mi ha cambiato la vita in assoluto da sempre è stato il mio incontro con la musica che io onestamente non ricordo perché è come se fosse stata sempre dentro di me però quello diciamo che ha davvero dato una direzione importantissima e fortissima alla mia vita per me la musica è diciamo al di sopra di tutto è la cosa più importante e più che altro che mi fa fare le cose cioè io vado capito lungo questo percorso questa strada e viaggio e mi auguro di continuare a viaggiare ancora per un bel po' beh ce lo auguriamo tutti perché siamo tutti i tuoi fan scatenati a 32 anni tu hai raggiunto appunto tutti questi traguardi vediamo il lato umano di Annalisa c'è qualcosa che ti fa paura e dici cavolo però sono giovane ho già raggiunto mille vette una paura umana ma ce ne sono mille che mi fanno paura in continuazione cioè ogni volta che devo fare un concerto ho paura ogni volta che salgo su un palco in televisione sono in diretta ho paura ma per questo è una figata perché comunque vuol dire che quello che faccio lo faccio con una grande partecipazione una grande passione e nel momento in cui forse ti passa la paura c'è qualcosa che non va secondo me ecco bello mi piace io sono perfettamente soddisfatta adesso se voi state lì intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo sui nostri canali ufficiali nella diretta su facebook se state lì e tra qualche giorno andate a vedere l'intervista su rds.it lì sveleremo la data di uscita dell'album e il titolo dell'album ma tu cosa dici? infatti non è vero niente ma è per spoilerare io non so né la data di uscita né il nome dell'album so spero incrociamo le dita che l'album uscirà non puoi dire niente dovete vedere l'intervista su rds.it adesso ci inventiamo qualcosa ciao io me ne vado anch'io soprattutto io ciao